Come sapete quello dei penitenziari è un tema di forte attualità, tutti ne parlano, i carceri italiani sono super affollati, bisogna fare qualcosa. Io abbutto là, fare un decreto legge che preveda di tanto in tanto che venga indetto un concorso, magari per associazione a delinquere. I primi 30 classificati si aggiudicano l'ingresso diretto al carcere, tutti gli altri purtroppo dovranno rifarlo il mese successivo. Molto semplice, snello, i carceri si suotano, certo poi bisognerà prendere dei provvedimenti per tutti quelli rimasti fuori, per provare a dissuaderli dal compiere altri reati. Oggi come oggi chiunque volesse fare una rapina basterebbe volerlo, vai fai la rapina e il gioco è fatto. Se invece gli rendessimo la vita difficile, anche con un po' di sana burocrazia, tipo per fare una rapina bisogna chiedere l'autorizzazione al comune di residenza, anche tramite SPID o tramite PEC. Il comune di residenza poi la inoltrerà al prefetto, trascorsi 30 giorni senza che si sia pronunciato, insomma ci pensi due volte prima di fare la rapina, ti passa pure la voglia. Il problema è serio ragazzi, è statisticamente provato che ci sono più scippi e rapine al mondo che da qualunque altra parte. Questi sono dati che dovrebbero farci riflettere, dovrebbero farci riflettere.